Il deputato Piero Antonio Zanettina ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego collega. Ministro Buonafede, dopo lo scontro assai violento che ha avuto domenica scorsa con il dottor Di Matteo, è giunto il momento di fare chiarezza. Nessuno crede alla versione dell'incarico prestigioso al Ministero che lei ha offerto al dottor Di Matteo in alternativa al DAP, l'incarico di Giovanni Falcone. Io e lei siamo sufficientemente esperti di cose ministeriali per sapere che a seguito di una serie di riforme che ci sono state in questi 20 anni, le direzioni generali di oggi sono molto diverse dalle direzioni generali del passato. Oggi non sono incarichi apicali, non sono soggetti a spoil system, non sono incarichi di prima linea contro la mafia. Era quindi evidente che il dottor Di Matteo avrebbe rifiutato quell'incarico che lei gli proponeva in alternativa al DAP. Allora lei ci deve spiegare perché, Ministro, in 48 ore, prima ha offerto l'incarico del DAP al dottor Di Matteo e poi l'ha rifiutato. È il momento di fare chiarezza. Il Movimento 5 Stelle, quando era nei banchi dell'opposizione, si caratterizzava per il principio della trasparenza, invocava trasparenza. È il momento di dare trasparenza al Paese, al Parlamento, ai cittadini italiani. Grazie Presidente.